Sono nato a Roma. Vengo dalla Romania. Vengo dal Marocco. Sono nata in Venezuela. Diciamo che il mio cuore sento come si è diviso in due parti. Una romana e una fogliese. Vanno a immaginarsi, lo di arriva è, che le gustaría fare nel futuro. Non è che ho pensato benissimo a quello che vorrei fare nel futuro. Mi vedo in qualsiasi posto, basta che sono felice. Vorrei visitare altri paesi del mondo. I musiciens di diverse orchestra symfonica si ritrovano e partagano i loro sapori. Sì, è molto interessante quanto è molto politico è quello che facciamo in questi giorni. Tutti tutti i bambini sono da diversi regioni, da Cronatia, da Cronatia, da Cronatia, da Cronatia... ...dia stavrano idee, da stavrano musica, da stavrano... ...dia stavrano cose e è molto interessante per tutti gli altri. Abbiamo parlato di una cosa importante in la nostra vita, che è la casa. E' sicuramente, anche dopo aver finito questa parte del lavoro... ...dia continuare a sviluppare, sviluppare, sviluppare... ...dia chiedere di più e più persone... ...dia rispondere a queste domande, che è molto importante. Il significato di casa. Quando qualcuno diceva che questo lavoro significa a te, ...dia è diventata più di una cosa. ...dia è diventata che non si pensi a te, ...duo ne molto rispondere a te, ...cosse domande che ci sono in questo mondo. Quindi mi parla di pensare in altre intese. C'è un contesto di quello che vengono. Non capisco, cosa è per me. Per me ha l'esservo del Hang. C'è pieno di casa, ...però mi ha gli spaziali di cui mi ha dato che non mi ha dato, ...avevo un altro mondo. Questo progetto ha aiutato a cominciare il mio cammino per la libertà. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info